Di confrontare questa crisi con quella iniziata o identificata con il grande crash del 1929 e la lettrice Emiliana Frasca ci chiede questo paragone è fondato fra la grande depressione e la crisi che stiamo vivendo e come se ne riconosce la gravità? Veramente possiamo paragonare questa fase storica con quella che portò alla seconda guerra mondiale all'ascesa del nazismo, al radicamento del regime fascista? Direi che al di là delle apparenze ci sono grandi differenze che devono essere enfatizzate rispetto alle similitudini Cosa c'è di veramente comune rispetto alle due crisi? Il fatto che hanno entrambe, pur essendo avvenute in momenti storici completamente diversi ha avuto un impatto psicologico molto forte sulle popolazioni La crisi del 1929 ha definito, soprattutto negli Stati Uniti ma un po' nel mondo ha avuto un impatto permanente sulla generazione che è stata colpita da questa crisi e ci sono analisi che mostrano che il fatto che la recessione è stata così prolungata anche in questa fase e così profonda, cioè che si è perso tanto reddito da parte di famiglie e imprese durante questa recessione ha lasciato, ha avuto un impatto forte cioè oggi se si chiede alle persone se siamo o meno in recessione tutti hanno la percezione che siamo in una fase di difficoltà vale per l'Italia ma vale anche per l'Europa e in larga misura anche per l'economia avanzata di tutto il mondo ecco questa è una delle similitudini l'altra similitudine è quella dell'incertezza rispetto alle politiche così come nel 1929 non si era pronti dal punto di vista intellettuale anche delle politiche economiche con le ricette per poter intervenire e sanare la crisi sono passati degli anni prima che si è trovata la strada giusta un po' durante questa crisi è stata la stessa cosa ci sono state alcune misure concordate a livello internazionale che già dal 2008 hanno fatto sì che ci fossero degli interventi per ridurre l'impatto della crisi dal punto di vista sociale e finanziario ma ci sono stati anche tanti errori e quindi poi si è dovuto imparare dagli errori questo tratto è molto simile a quello che abbiamo sperimentato nel 1929 c'è stato un processo che nel caso di crisi che trasformano molto l'economia e che nascono da un fallimento in fondo del sistema economico precedente e che quindi devono portare ad un nuovo equilibrio ad un nuovo sistema economico e finanziario passano anche attraverso un processo di apprendimento che è costoso perché fino a che non si trova la soluzione giusta comporta appunto una prolungata stasi dell'economia con danni anche sociali sull'occupazione, sul reddito, sulla povertà come sappiamo molto bene però appunto le differenze sono molto grandi il sistema di oggi è molto più interconnesso rispetto a quello del 29 è molto più internazionalizzato la globalizzazione ha trasformato le nostre economie a partire dagli anni 80 e quindi è ancora più importante che le azioni di rimedio le azioni che devono servire a riportarci in una condizione di equilibrio non siano prese solo dai paesi torniamo un po' a un punto che dicevo anche in precedenza c'è bisogno di un maggior coordinamento gli attori intorno al tavolo sono di più oggi ci sono i mercati emergenti che sono giocatori importanti intorno a questo tavolo nella partita dell'economia mondiale hanno un peso rilevante e le loro scelte ci condizionano non siamo più in una situazione nella quale sono due o tre grandi economie che decidono quali sono le politiche economiche del mondo oggi gli attori sono vari e quindi c'è un rischio di assenza di coordinamento di mancanza di coordinamento che può portare a uno di quei fallimenti di cui dicevo prima quindi maggior coordinamento negli organismi internazionali nei gruppi che sono stati costituiti per far sì che le politiche economiche siano più armonizzate è sicuramente importante uscire un po' da una logica nazionale